gentili telespettatori buona giornata la lega chiede un milione di euro di danni al quotidiano la repubblica perché cosa avrebbe detto la repubblica sulla lega questa volta bene adesso ve lo racconto la lega dice che ci sono inaccettabili falsità contro il partito il carroccio una nota ufficiale della lega annuncia una richiesta di un milione di euro di danni al quotidiano la repubblica il quotidiano diretto da maurizio molinari ha pubblicato un articolo a firma doppia di paolo biondani e vittorio malagutti riprendendo un'inchiesta dell'espresso in cui si accusa il senatore leghista paolo tosato di aver presentato il 9 giugno del 2016 una interrogazione contro le sanzioni alla russia pagata 20.000 euro dagli stessi russi come di aver presentato una interrogazione contro le sanzioni alla russia pagata 20.000 euro a allora l'espresso dice questo la repubblica lo riporta che questo paolo tosato avrebbe fatto un'interrogazione parlamentare contro le sanzioni e che avrebbero pagato i russi 20.000 euro per avere questa interrogazione parlamentare secondo l'espresso tosato chiedeva di sospendere le sanzioni su suggerimento dell'oligarca russo costantin malovef tra le prove esibite dal settimanale la presenza in calce al testo di una cifra 20.000 euro la presenza nel testo di 20.000 euro come in che senso a differenza di chi per anni ha diffuso come supplemento mensile russia oggi e la replica della lega il senatore paolo tosato non ha mai preso un centesimo da mosca né ha mai assecondato richieste del cremlino il senatore tosato che non è mai stato in russia in vita sua aveva presentato un'interrogazione al governo cioè una semplice domanda con l'obiettivo di ricevere rassicurazioni sulle esportazioni italiane e in particolare del suo veneto verso est anche per questi motivi sia il senatore che la lega hanno dato mandato ai legali di difendere la propria onorabilità tosato e la lega chiederanno un milione di risarcimento danni a testa la cifra sarà interamente devoluta agli orfani di guerra ma la mia domanda è questa se il fatto risale al 2016 16 17 18 19 20 21 22 si fa una domanda una denuncia sette anni dopo o l'articolo l'hanno scritto adesso perché qui non nell'articolo che sto leggendo io non è specificato quindi non so se la denuncia è riferita a un fatto successo sette anni fa o la denuncia è riferita a un articolo che parla di un fatto successo sette anni fa non nell'articolo non c'è scritto e poi seconda domanda la prova esibita dall'espresso sarebbe la presenza in calce al testo di una cifra 20 mila euro cioè questo questo leghista avrebbe presentato un'interrogazione parlamentare no un'interrogazione parlamentare coscritto 20 mila euro ma ma cosa vuol dire ma non lo so allora io vi sto riportando quello che ho trovato scritto sul libero quotidiano in questo articolo delle 25 marzo del 2020 ma non c'è non ha un un autore però mi stanno facendo queste domande perché dalla lega fanno poi notare che la repubblica riportando il comunicato della lega si dimentica o meglio sbianchetta di riportare proprio la parte più piccante quella che faceva riferimento a russia oggi inserto del quotidiano di riferimento della sinistra italiano in anni in cui a mosca c'era già vladimir putin da un pezzo vabbè insomma vi terrò aggiornati su come prosegue questa cosa del milione di euro beh l'espresso è sempre quel quel periodico diciamo così quel periodico che ha provato ha tirato su tutta quella cosa dei soldi presunti rubli che sarebbero arrivati alla lega per una tangente sul petrolio vi ricordate savuini tutto quel casino che che era venuto fuori che secondo me era tutto secondo me c'è stato il tentativo ai tempi ne abbiamo parlato ampiamente c'è stato il tentativo da parte non si sa chi se da qualcuno in italia qualcuno all'estero servizi segreti deviati non si è mai capito il tentativo di incastrare salvini di fare in modo di sbarazzarsi politicamente del capo della lega anche perché ai tempi salvini aveva un 35 per cento dell'elettorato come primo partito tutti gli altri erano dietro anni luce quindi sembrava imbattibile vi ricordate quando zingaretti che ai tempi era capo politico del pd diceva caspiterina qua se facciamo un passo falso ci troviamo salvini all'ottanta per cento del del con l'elettorato ecco poi non è questo non è avvenuto però ai tempi la l'idea principale di molti in politica era e non era di fermare matteo salvini a tutti i costi costi quel che costi e allora all'improvviso era venuta fuori questa roba qua la magistratura che si era messa a indagare sentito savoini sentito tizio caio sempronio ma di questi soldi non c'è mai stata traccia naturalmente poi quando vengono fuori queste cose il tarlo negli italiani rimane sempre no chissà ma non so ecco quando si tirano fuori queste cose il danno poi è fatto perché solo il fatto di parlarne sui giornali fa sì che molte persone poi abbiano il dubbio però hai capito ecco quindi l'espresso era già venuto fuori con delle cose che poi si sono rivelate senza fondamento nel senso che nessuno ha trovato mai niente adesso questa storia qua che il leghista ha preso 20.000 euro per fare un'interrogazione parlamentare il fatto è questo o l'espresso ci azzecca sempre ma non ha le prove o realmente è una specie di giornalismo atto per colpire una certa porta politica ecco le cose sono due o sono delle o sono dei grandi investigatori giornalistici eccetera eccetera oppure sono pure calugne non lo so non ve lo saprei dire perché ovviamente nessuno ve lo può dire sono solo delle supposizioni dei pensieri senza fondamento arrivederci a tutti e grazie